Giovedì 29 novembre alla Certosa di Calci nel convegno La Toscana Spirituale si è parlato del patrimonio ecclesiale e dei cammini presenti nella nostra regione in un'ottica di valorizzazione dei territori e delle comunità toscane. La regione toscana prima di altro ha scommesso sulla valorizzazione di un modo diverso di percorrere il territorio, verso un turismo lento, verso un turismo attento all'ambiente, attento alle tante emergenze storiche che si intercettano camminando attraverso la Toscana. Questa mattina discutiamo in particolare di quello stretto legame tra i percorsi, tra i cammini e le punteggiature determinate nella nostra campagna, nelle nostre colline, dalle conventi, dai ospitali, da emergenze storiche, artistiche che si costituiscono il patrimonio diffuso nella Toscana. La Toscana vanta un patrimonio ecclesiastico di immenso valore che oggi può divenire parte di un processo di riavvicinamento ai luoghi e alle comunità locali, nella logica di una valorizzazione partecipata e di una loro fruibilità consapevole, valorizzando i cammini, tra cui la via Francigena, antichi percorsi che di recente sono stati riscoperti e hanno visto sviluppare in modo significativo il numero di pellegrini e camminatori desiderosi di riscoprire la propria spiritualità. È un turismo importante, è un turismo culturale, spirituale, in grande crescita, che è già una realtà diffusa in tutta Europa. Si calcola che ogni anno 18 milioni di turisti europei viaggiano per la spiritualità. E il cammino, che è un cammino poi anche di pellegrinaggio, quindi verso i luoghi di culto, verso i luoghi santi, verso i luoghi dove ci sono anche le tombe di importanti santi, rappresenta un aspetto importante del turismo a livello europeo, a livello italiano. Noi in Italia abbiamo sicuramente delle grandi eccellenze, penso certo a Roma, a San Pietro, ma penso anche a Loreto e penso ai tanti luoghi di culto che sono diffusi in tutta Italia, San Giovanni Rotondo, nel Gargano, ne abbiamo molti in effetti. E su questo stiamo lavorando anche nella regione toscana per rafforzare il tema del turismo culturale legato alla spiritualità e quindi anche ai cammini. Proprio per valorizzare gli antichi cammini e i numerosi luoghi dedicati alla spiritualità e alla religione, la regione toscana ha approvato una nuova legge. In realtà questa legge prevede una procedura per un riconoscimento e divide praticamente i cammini in tre categorie. La prima sono quei cammini già riconosciuti dal Consiglio d'Europa, come la via Francigena, o che sono in corso di riconoscimento, come può essere la via Romea Germanica. Poi ci sono i cammini interregionali, cioè quelli che attraversano più regioni e la Toscana è un crocevia di questi cammini. Pensiamo dalla Matildica alla via degli Dei, che sono vie che arrivano dall'Emilia Romagna, o alla via Lauretana che arriva da Siena a Porta a Loreto nelle Marche, o alla via di San Francesco che invece attraversa l'Umbria. Quindi la Toscana è proprio un crocevia di tutto, storicamente, di questi percorsi. E quindi questa è la seconda categoria. Al terzo ci sono invece dei cammini che riguardano esclusivamente l'interno della regione toscana, come per esempio dei cammini che sono legati agli Etruschi, che come tali però hanno una valenza storico-culturale-religiosa particolarmente importante. Quindi la legge ha creato un sistema snello per il riconoscimento e la valorizzazione di questi percorsi.